La scoperta di questi pianeti di tipo terrestre La cosa è stata una notizia di fiammata che ha portato l'attenzione del pubblico questo argomento Cerchiamo di capire quello che è il contenuto di questa notizia per intendersi Allora, prima osservazione, sistemi solari nostri o altrui come ciò dal nostro Per capire un attimo come è combinato Qui c'è una figurina che vi dà, non in proporzione come distanze Ma dà comunque l'ordine delle idee Diversi pianeti del nostro sistema solare Partite da quella roba rossa che è il bordo del Sole, molto più grande di tutti E poi vedete queste diverse miglie che rappresentano i pianeti Cominciate con il vedere questi qua La Terra è qui in mezzo, noi siamo in questi, siamo i pianeti della parte interna esterna solare Poi ci sono quelli più grandi, Giove, Saturno, Urano, Nettuno Poi c'è, non so se lo vedete, c'è un puntolino bianco qui in fondo Bisogna un po' indovinare Troppo piccolo, ma poco male perché l'hanno declassato Quindi non c'è problema Nel senso che l'hanno, prima gli avevano attribuito la politica di pianeta E poi l'hanno ribattezzato planetoi dal 2006 Lui è stato scoperto nel centro-vesta Ed è Plutone In effetti non è della stessa famiglia degli altri In parte un fatto che più piccolo Perché comunque ha un'orbita un pochino più inclinata Insomma, quindi probabilmente è un trovatello Che è stato catturato per strada, non è nato insieme agli altri Vabbè, questa è la situazione Abbiamo una stella, il Sole, una stella abbastanza comune Nella galassia E intorno c'è un accortiero di pianeti Questa figurina mi dà un'idea di come girano le velocità Spero che si riesca a capire L'anello azzurro è la Terra Poi vedete Marte che è più esterna E non è che rimane indietro perché gira più lentamente Ci mette più tempo a fare un giro All'interno ci sono due pallini giallini Piccoli piccoli che girano più veloci Che sono Venere e Mercurio E qui c'è un'altra visione da fuori Quella roba velocissima è sempre la Terra E quello rosso è Giove La Terra ci mette un anno a fare il giro E Giove ci mette 18 anni Poi all'esterno vedete altre cose che girano Il primo più vicino è Saturno L'altro è Urano E sono più lenti pure loro che girano Quindi ognuno più si si allontana Più è lenta la velocità del moto di rotazione Più ci si avvicina al Sole Al centro di gravità E più è veloce Vediamo le proporzioni Faccio che grande Quella grande boccia è il Sole Non è che sia Si dà l'idea di essere una boccia Che la mette qui lucidata Quelle sono delle fiamme Fiammate solari Tutti chiari Ci sono le macchine Quelle più scure Lì in fondo a destra Avete queste palline più piccole Che sono i pianeti Il più grosso è Giove Questo qui Poi c'è Saturno Urano, Nettuno E poi fate fatica a vedere Se tutti li vedono Qui ci sono questi piccoli Beh, lì c'è la Terra Marte, Veneto e Mercurio Questo che dà un'idea delle proporzioni Guardando, togliamo di mezzo il Sole Vediamo soltanto i pianeti Vediamo un pochino meglio le proporzioni Giove è grande Tra l'altro è gassoso Giove E lui voleva come carriera fare la stella Ma non ci è arrivato a fare la stella E quindi è una stella mancata È gassoso All'interno probabilmente c'è un nucleo Piccolo, solido Saturno Gli somiglia a parte gli anelli Che sono famosissimi C'è anche lui molto grande Caratteristiche simili Poi ci sono Urano e Nettuno Che sono belli rossi Pure loro all'esterno E le biglie qui davanti Sono i pianeti interni La Terra è questo più scuro Questo è Venere Questo è Marte Questo è Mercurio Quindi vi fate vedere Delle proporzioni Questo è un sistema solare Sarà tipico Sarà l'unico Perché il nostro Com'è, come non è Allora Come si è formato Come è nata sta roba Per quel che possiamo capire noi Beh Diciamo che È nato Si stima 4 miliardi Di 600 milioni di anni fa Un terzo della vita Della dell'universo Più o meno Fa Da quello che si chiama Una nebulosa planetaria Quella è una figura disegnata Non è una foto di niente Ma immaginate Una grande nube Irregolare Che contiene dentro Gas Sopra tutto E poi Granelli di polvere Varie Ora Se Per motivi accidentali Una zona Si addensa un po' più Delle altre Diventa più forte L'attrazione Che quella stessa zona Esercita Su ciò che è intorno Quindi Diciamo che Si formano Dei punti Di concentrazione Di attrazione Che attirano Quello che c'è intorno E cominciano quindi A svilupparsi Negli agglomerati Più ampi Prevalentemente Gassosi Ma poi La pressione Aumenta Comprime Quindi Si può formare Qualcosa di più solido E avere Gocciosi Se è il caso Il L'agglomerato Più grande In assoluto È stato Quello che ha portato Al sole In quel caso La pressione Che progressivamente Aumenta Man mano Che si agglomera Materia Comprime Comprime E aumenta Anche la temperatura Di questo gas Compresso Aumenta moltissimo A un certo punto Si superano Determinate soglie Aumenta al punto Se c'è abbastanza Materia Da far sì che Nelle parti più interne Si innesca Quella Quella fusione nucleare Cioè I nuclei Prevalentemente Di idrogeno E di elio E tracce di altre cose Sono costretti Dalla pressione A essere talmente vicini Che riescono a fondersi E quando fanno questo Liberano un sacco di energia Che è L'energia tipica Delle stelle Questo succede Quando c'è massa È sufficiente La pressione È sufficiente A innescare Il processo Nasce la stella Prima è solo Un agglomerato Più o meno caldo Poi nasce la stella Cioè Un meccanismo Di produzione Di energia Per la sua fusione Che dura A lungo Abbiamo detto Che la solare Si è formato 4 miliardi e mezzo Abbondanti Di anni fa Il sole Si stima Che ha ancora Una vita attiva Prima di una Pensione Burrascosa Di un altro 5 miliardi di anni Dopodiché Dato questa classe Di stelle Verosimilmente Avrà una fase Di Contrazione E Riespansione Con una bolla Con la densità Bassa Che arriverà Fino più o meno Dove siamo Adesso Ma è tra 5 miliardi di anni Per cui possiamo Stare tranquilli Per il momento Dopodiché La parte interna Si trasformerà In una spellina Residua Una nana Che a sua volta Pian pianino Poi Si ridurrà Con la capacità Di produrre Energia Alla fine Non innesca più La Esaurisce Il combustibile Tieniamolo così Indrogene E poi elio Per cui alla fine È una roba calda Che però Come un tizzone Non produce energia E Diciamo Manda fuori Quello che Rimane Vabbè Questo più o meno Il grosso mondo È La situazione Partiamo da una Presumibilmente Una nervosa Plattaria È una congettura Verosimile Abbiamo altri indizi Questa è una foto Fatta dal Telescopio Radon Sterecordio Spaziale Presa dalla regione Di Orione Nella zona Della costellazione Di Orione Ci sono molte Nebule Non galassie Nebule Cioè Grandi distribuzioni Di gas Dentro le quali Sono anche Delle stelle Una situazione In evoluzione Queste macchie Che vedete Sono delle Nucleose Planetarie Tipo quella Della Di Nato Sistema Suara Quindi Ce ne sono Adesso Queste sono In ritardo Rispetto A quello Che è successo Al sole Ma hanno Le caratteristiche Di quello Che dovrebbe Essere La situazione Originaria Quindi Sono Più dense Delle polvere Sparse Intorno Cominciano Gravitazionalmente A stare Insieme La temperatura Non è tale Da spartagliare Il gas Più O meno A caso Tendono A stare Insieme E a concentrarsi Dentro Ciascuna Lube Si formano Dei punti Di aggregazione Più Importanti Degli altri E quindi Tendono A eliminare Quello Che è sparso In mezzo E quindi Se tanto Di da tanto Questi saranno Dei titoli Sistemi Sistemi Sorali Come La stella Che è quella Più grossa Che viene Innescatta E si accende E poi Dei corpi Che non arrivano A quel punto Lì E che possono Essere Gassosi Come Giove O rocciosi Come la Terra Come Marte E che ruoteranno Attorno Alla loro Stelle Qui c'è Un'altra figura Diciamo Di nuovo Un disegno Questo qui Che vi da un'idea Di questa nube Vista da dentro Torniamo indietro Il tempo C'è il sole Appena nato Con ancora Intorno A un sacco Di polvere Polvere E gas E vedete Che ci sono Queste cose Scure Che sono Agglomerate Di roccia E che poi Possono diventare Il nucleo Di futuri pianeti Qui ce ne Tantissimi Poi questi Si urtano Si disturbano Gravitazionalmente E si fondono Insieme A quelli più grossi I fondi Che ti fondi Danno luogo Ai pianeti Rocciosi C'è una zona Come saprete Che è tra La parte Tra l'obito Di Marte E quella di Giove Che è la zona Degli asteroidi Cosiddetta È una zona Che dal punto Di vista gravitazionale È molto disturbata Dalla presenza Di Giove Che aveva una forte capacità Di attrazione E dei pianeti interni In Marte Ma anche la Terra E così via Per cui lì Quello che c'era Non è riuscito Ad aggregarsi In un pianeta Ci sarebbe stato Mettiamola così In quella zona Come materia Ma è rimasto Disgregato In tanti pezzetti Che sono poi Gli asteroidi Che sono tantissimi Hanno orbite Che cambiano Nel tempo Ovvio perché c'è Questa perturbazione Continua Dei corpi maggiori Qualcuno di questi Ha orbite molto ellittiche Per cui passa Attraverso l'orbito Della Terra Si avvicina al Sole Poi si allontana E via Altre hanno orbite Più circolari Ce ne grandi Beh Meno della Luna Senz'altro Ma che si avvicinano A quella taglia lì E ce ne che sono Dei sassi Grandi come questo tavolo Più o meno Da lì vengono Molte delle meteoriti Che ci pionano Addosso Quelle rimano O da lì O dai residui Di vecchie Di antiche comete Che sono state Disgregate Passando tra Sistema solare Dalla gravità Dei corpi Di cima Di quali Stavano passando Bene Sistema solare Nostro In grosso modo È fatto Come abbiamo detto E presumibilmente È nato così Già si capisce Che Non si capisce Perché dovrebbe essere Un unicum Visto che vediamo Ci sono anche Mebulose planetarie In giro Da altre parti E allora Passiamo alle stelle Intorno alle stelle I pianeti Le stelle La foto di destra È fatta È un cielo Molto limpido Quindi in un deserto Perché i cieli Sono sempre molto Meno limpidi Di così Un deserto americano Quella che vediamo qui È la nostra Gravassia Vista da dentro Perché noi siamo dentro La zona del centro È qui E poi È un grande Disco In realtà È una girandola Questa cosa scura Non è una mancanza Di qualcosa Sono proprio zone Dove ci sono delle polveri Nella parte del disco Nella parte interna E quindi Intercentano la luce Delle stelle Che stanno dietro Tantissime stelle Noi siamo parte Di questa cosa Siamo in un braccio In una spirale Quello che si vede a sinistra Non può essere La nostra galassia Perché non siamo capaci Di uscire fuori E guardarla Però è una Che presumibilmente È dello stesso tipo Vista da sopra Una visione migliore Quindi la nostra galassia Che da dentro Non possiamo vedere Solo così Se potessimo Vedermela da sopra Si presenterebbe Quell'altro Il sistema solare Più o meno Sarebbe qui Con la posizione Quindi Su 140.000 Anni luce O giù di lì Qui ce ne saranno 30.000 Più o meno Sarebbe il sistema solare Siamo In un braccio Ai margini di un braccio Ai margini di un braccio Ed è una specie di girandola Sembra tanto tutto bello Ma non è ancora chiaro Perché sono fatte a girandola Ste cose Non tutte le galassie Sono fatte a girandola Qualcuna ha una forma Più o meno Da elissoide No? Però la maggior parte Sono fatte in quel modo lì E quel che succede Abbiamo vedete Le girandole Con i fuori d'artificio E questo succede Quando io Ho qualcosa Che è sparato radialmente La parte interna Gira veloce E quello che sta indietro E fa i bracci Ma Non è che Uno si aspetta Che le galassie Siano sparate dal centro Si sono aggregate Gravitazionalmente Tutto quanto gira Nel universo Perché ci sono i bracci Non è così ovvio Non solo Ma noi siamo Una galassia Questa Sbarrave E qui c'è una specie di sbarra Come se ci fosse La parte luminosa Qui A parte il centro C'è un tratto Di rinuto E' come se uno Avesse un bastone Sembra un irrigatore Dei prati Che ci sono i suoi bracci Sparano E fanno Tutti gli schizzi Intorno Anche quello Non è chiarissimo Perché si è fatto così Ci sono tante cose Che sono ancora da capire Incluso la velocità Delle stelle Tante cose Comunque Bene Noi Il nostro sole È dentro Una galassia Ma Ma quante sono Le galassie Quante stelle Ci sono In una galassia Allora Come il sole Più o meno La maggior parte Sono come il sole L'ordine di grandezza Cento miliardi Cento miliardi Di stelle Sulla nostra galassia Sono Più o meno Quattrocento miliardi Di stelle Quella è un po' Giganti Che sono più grandi Che sono più grandi Della nostra E che magari Hanno mille miliardi Di stelle Però Grosso modo Quello è Non è Un numero grande O un numero piccolo Faccio un paragone Un po' Inusuale Cento miliardi Di stelle No Il debito pubblico Italiano È 2250 miliardi Di euro Molto di più Immaginate Proprio 2250 Monete Da un euro Il debito 2250 Monete Da un euro Non è tantissimo Perché poi Considerando il volume Vengono 800 mila Metri cubi Che è un terzo Della piramide Incheope Diciamo Allora Ce la caviamo E Peserebbe 17 milioni Di tonnellate Diciamo Che 100 miliardi È anche un numero Caratteristico Perché La stima Del numero Di neuroni Del cervello Questo numero Di stelle Che stanno Dentro La tipica Galassia Quante Di queste Ci avranno I pianeti Intorno La maggior parte Sono più o meno Come il sole Come tipo Più piccole Più o meno In quel tipo Adesso Si possono fare Di ragionamenti Di probabilità Ma adesso Ci sono già Delle osservazioni E da qui Uno Senza La programma Leggione Scrive Dice che Mediamente Un pianeta Per stella C'è In realtà Quindi abbiamo 8 8 Intorno al sole C'è Gli asteroidi Che sono Come dire Un pianeta Sbriciolato C'è la fascia Di Oort Che è una cosa esterna Dove stanno Le comete Quelle affezionate Che sono sempre Poi ci sono Quelle che girano E ogni tanto Ne passano E poi spariscono Ma ci sono Quelle che vengono Da questa regione Esterna Plutone Parecchio Che per ora Appartiene a Solo Incaritazionalmente Quindi c'è Un sacco di roba Intorno a una stella Che è la nostra Non è che le altre Devo essere da meno Comunque Facciamo Prudenzialmente Un calcolo Per la nostra Via Lassia 400 miliardi Di pianeti Bene o male Ci stanno E' un discreto Mimperino 400 miliardi Quindi Dice Allora A quel punto La domanda Questa prima Sì La galassia Ma quante sono Le galassie Beh Della parte Che noi vediamo Ce ne è Di nuovo Stimate 100 miliardi Di nuovo Quella foto lì E' fatta Sempre dal Teasco Più spaziale Non sono stelle Sono galassie Anche i puntolini Più piccoli In una zona Buia Diciamo Del cielo Mi ha fatto la foto Tenendo aperto Obiettivo Che nemmeno Diciamo così Molto a lungo Ognuno di quei puntolini E' come la galassia nostra La Via Lattea Solo che E' lontano Miliardi di anni Non c'è Quindi Centinari di miliardi Di stelle In ogni galassia Centinari di miliardi Di galassie Nell'universo Non nell'universo Punto In quello che vediamo Vediamo un pezzo Che finisce lì E poi se finisce Poi cosa c'è Una domanda tipica No Comunque sia O è chiuso Cos'è Il fatto che finisce E poi E' una domanda Che lo stanchiamo No Quindi Quindi Quella si può dedurre Che la cosa più improvabile Dell'universo E' chi siamo solo noi Veramente E' uno spreco Terrificante No Comunque In termini di pianeti È ovvio Che non è che c'è solo La Terra Qui abbiamo parlato Di pianeti Genericamente Quindi sono Coppi oscuri Che possono essere Nostrosi Gassosi E che ruotano Attorno Ad una stella Ce ne sono anche Che ruotano Attorno a sistemi Doppi di stelle Cioè in questa formazione Da nubi Può capitare Che due centri Di aggregazione Non hanno Nessuno dei due Ha vinto Tutti e due Hanno fatto una stella E sono legati Gravitazionalmente Però ci sono anche I pianeti in mezzo Dal punto di vista Degli astronomi Interessantissimo Perché come si comportano Questi pianeti Girano entro tutti e due Solo uno Fanno degli otto Fanno lo slalom Non c'è di tutto Però C'è una situazione Abbastanza corrente Perché i sistemi Doppi di stelle Sono abbastanza comuni Non sono rari Quelli più rari Sono magari di tre Stelle La valuta legata insieme Ci sono anche quelli Quindi Diciamo C'è di tutto Allora Noi torniamo A interessarci Dei pianeti E ci interessiamo Non di qualsiasi pianeta Ma di quelli Così di tipo terrestre E che per esempio Si trovano in zone abitabili Calma Non è che domani Vado in un'agenzia E rovi a coppio La villetta Lì e sono a posto Cosa vuol dire Questa storia qui Innanzitutto Le stelle Che consideriamo Sono direttamente Di tipo solare Tipo solare Vuol dire Non troppo più grandi Ci sono delle stelle giganti Molto gassose E così via Non quadrerebbero molto Quindi tipo solare Più o meno Come il sole Più piccole Più piccole va bene Insomma Ci sono molte stelle Più piccole Ci sono quelle estreme Piccolissime Stelle di neutroni Ma lì ho tutto un altro discorso Sono estremamente compatte La stella di neutroni È una stella Che pesa come il sole Ma sta a 10 km Mentre il sole Sta a 1 milione di km Quindi Sono oggetti Molto particolari Sono al centro Di sistemi In cui c'è stato un collasso Una stella Iniziale Magari una gigante Che di solito vive meno Delle altre Come il sole Ma a un certo punto Non ce la fa più Patapanf Succede uno scompasso Grande quartiere di luce Una nuova Una supernova Grande quartiere di luce E rimane un nucleo Densissimo Che diventa Una Un centro Lasciamo stare I casi estremi Stelle non troppo grandi Magari che un po' più piccole Del sole Ce n'è In abbondanza La massima parte delle stelle Che ogni giorno Sono di questo tipo qui Poi Come pianeti Ce ne saranno Ci interessano Quelli che hanno A loro volta Una massa Tipo quella della terra Un pochino più pesanti Magari Un po' tanto Un po' meno La metà Perché? Perché in quel modo La gravità superficiale Sulla superficie del corpo Non è troppo lontana Da quella che abbiamo qua Se la massa è quella Se vi mezzo anche Quanto è grande Fisica Cioè qual è la diversità Ma se la massa è quella La gravità sulla superficie È parete di quella Che abbiamo qui Due volte la gravità qui I piloti da caccia La sperimentano Quando fanno le dilate E vabbè Certo Uno viene schiacciato Contro il 6.000 È come se pesasse Il doppio Per ora No? La gravità più bassa Su Marte Sarebbe più o meno Un terzo Di quello che sarebbe qua Di nuovo Si ragiona Sulla Luna Sono andati gli astronauti Di un sesto Avete visto che facevano Quei salti Nel bar datisi In carini di Roma Però Ci stavano In definitiva Quindi Massa Sulla nostra Poi L'altra cosa importante È che devono essere In una posizione tale Da poter avere Dell'acqua liquida Magari non durante Tutto il tempo Ma in parte Questa è una Restrizione Abbastanza importante Perché La molecola d'acqua È presente Nelle comete Può essere presente In traccia In certi meteoriti Quindi Diciamo che L'acqua Nidrogeno Ossigeno Si trova Però Un conto È averla Permanentemente Ghiacciata Oppure In forma di vapore Che per la realtà Dura molto Un conto È averla in forma Liquida Che è uno degli elementi Caratteristici Della Terra Questo vuol dire Che il flusso Di radiazione Che viene dalla stella Sul pianeta Deve essere In un certo intervallo Un flusso Di radiazione Che arriva dal sole Sulla terra E il misurato Di watt Giù per secondo È di 1300 watt A metro quadro E noi abbiamo La poliglia Diciamo che potrebbe Essere un po' di più Un po' di meno Perché poi Non dipende solo Da più Di radiazione Per vedere L'atmosfera Del pianeta Come è fatta Quanto è densa Se è troppo densa C'è l'effetto Serra Come è su Venere E la temperatura Superficiale È molto alti sopra La temperatura Di ebollizione Dell'acqua Quindi l'acqua Si cessa Un fumo di vapore N E non mi basta Se è troppo Tenue Come è l'atmosfera Allora L'acqua Potrebbe esserci Quando ghiaccia Ma anche come acqua Evapora Non solo Non tanto per la temperatura Ma per la depressione Cioè qualunque corpo Persino questo tavolo Tende a Perdere qualcosa Per la superficie Per sublimazione Anche il ghiaccio Sublima Per le molecole Allora Se l'atmosfera È troppo lieve Troppo tenue C'è Il fatto che l'acqua O il ghiaccio O quel che sia Tende comunque A evaporare A prescindere dalla temperatura E se l'atmosfera È debole E tenue Succede che A lungo andare Questo sale E poi Tende a perdersi Il corpo In genere Gira O volta su se stesso Ci sono vari fenomeni Per cui Tende a Perdere il contatto Grazie nazionale Quindi non dura Allora Ci sono molte condizioni Diciamo che La prima è Che comunque Sia in una Regione In cui la quantità Di calore Di radiazione Che arriva Dalla stella principale Sia Ne troppo bassa Ne troppo alta Quindi una fascia E quindi anche questo Pone dei vincoli Abbastanza Definiti Al tipo di oggetti Che ci interessano Diciamo Nella nostra galassia Quanti potrebbero esserci Nei pianeti così? Una quarantina di miliardi Tipo terrestre In galassia Quindi Non male Abbiamo di che giocare Ecco Allora Queste sono speculazioni Adesso sono anche misure Come li vediamo Questi se ci sono Tutti questi pianeti Dovete ora Guardiamo le stelle Diciamo che pianeta E qual è che le stelle Sono lontane Più vicine A quattro anni Luce da qua E poi E poi E poi Arrivano migliaia E decine di migliaia Di anni luce I pianeti Sono piccoli E girano vicino Alla stella Quindi con strumenti Ottici In generale Non li vedo C'è qualche esempio Ultimamente In cui si è visto Qualcosina In prossimo Di una stella Di quelle vicine In generale Sono stati I corpi Molto grandi Dalla taglia Di giove Non più piccoli Ma è difficile Dobbiamo avere altri metodi Per capire Se ci sono Questi pianeti C'è una serie Quindi ho citato i due Uno è questo Mindful mixing Cosa vuol dire Quando io ho una massa E passa la luce In realtà La luce Si scopre che pesa Cioè Fa così Non gliela tratta Non gliela deviata Non è che ci caschi sopra Se non è un buco nero Diciamo Una massa Tende un po' a deviare Allora Se io sto guardando Lo sfondo Il cielo Galassi lontana Qualche sia E c'è qualcosa Che passa lì Io ho una piccola distorsione Anche se non lo vedo lui Dice È passato qualcosa Perché i raggi Sono stati distruggati E questo è un modo Questo può essere Generico E infatti In questo modo Si scoprono corpi Di tipo planetario Che trovano un orbito Non trovano nessuna stella Sono i freelance Dei pianeti Ce n'è Qualcuno magari È il resto Di una stella Che si è spetta Chi sa quando Comunque Si individuano Sullo sfondo Analizzando Sempre la stessa porzione Di cielo Quando c'è una cosa Del genere Non è banale Questa storia Perché noi abbiamo Anche l'atmosfera nostra In mezzo Quindi se lo faccio Un telescopio spaziale È uno dei pericorsi spaziali Ce n'è A questo punto Ce n'è tre Allora Se lo faccio Da terra C'è tutta l'atmosfera Che fanno lavori Per via Del movimento La turbolenza E quant'altro Quindi è complicato Però si riesce Oppure guardando Verso una stella Io noto Che ci sono Delle cose variabili Nel tempo Anche nella modulazione Perché deduco Che c'è un oggetto Che si sposta E poi L'altro metodo Che tutto sommato È quello Che adesso Ha preso Maggiornamente piede Allora Se sono fortunato Perché magari I pianeti Girano con la stella E girano così In quanto Ma se Nivedo in taglio Allora Il pianeta Quale che sia Passa davanti alla stella Poi gira Passa dietro Poi andiamo davanti E così via Quando passo davanti Alla stella Fa un po' Da schermo Anche su Lui è molto piccolo Quindi La luce della stella Si attena A un briciolino Se io sto lì A guardare Degli strumenti Non tratto La vista Degli strumenti Mi accolgo Se c'è un calo Di In testa luminosa Potrebbe essere Casuale Accidentale Ma se io sto lì E vedo che si ripete Periodicamente E no Qui è un oggetto Che gira Quindi questo è il metodo Poi ci sono altre Questioni Sottiglieze Che vanno allo spettro Della radiazione Adesso non è il caso Di complicarsi Ultimamente La vita Allora Questi sono più o meno Gli strumenti Che abbiamo A disposizione Che informazioni Ricaviamo Da questa roba qua Allora La prima cosa Che noi cerchiamo Di sapere È studiare la stella E la stella Solo di che classe È Di che tipo È Questo Quell'altro O da I modi Di individuare È sulla stella E quindi Una delle cose Che trovo È la Massa Della stella Poi Supponiamo Di avere Il pianta Che passa davanti Allora La frequenza Dei passaggi Bene Prendendo La massa Della stella È la frequenza Di passaggi Bastano Delle giga Prima Io trovo Il raggio Dell'orbita Anche se non Sto vedendo Il raggio Dell'orbita È già qualcosa Però Non ho delle informazioni Dirette sull'oggetto Mi interessa anche quello Quelle informazioni Verose Si aggiungono Qualche Altri fattori Ad esempio Può succedere Anzi succede Non è vero Che il pianeta Gira intorno alla stella Nel La terra Gira intorno al sole Tutti e due Girano intorno Al bravo Ricettro comune Il baricentro comune Tra terra e sole Praticamente È dentro Il sole Quindi Prendiamo Poi il sole Come centro Va tutto bene Però dipende Soprattutto Per stelle più piccole E pianeti grossi Io posso avere Una situazione In cui Il fatto che Il pianeta gira Ma anche la stella Gira Finché due Girano intorno Al loro baricentro Qualche Importanza Ce l'ha Io mi accorgo Che la stella Ha un movimento Periodico Di allontanamento A vicino a vento Come me ne accorgo Guardando lo spretto Della luce Tende un po' Verso il rosso Si sta allontanando Poi smette Togliere Tiene un po' Di più Verso l'azzurro Rispetto Alla sua Fondamentale Perché si avvicina Se questo è periodico E io Ho Informazione Sulla massa Della stella Dedugo Qual è la massa Dell'altro Oggetto Cioè L'eventuale pianeta Ancora è più complicata Perché se i pianeti Sono più di uno La cosa Deggiante del conto Dell'effetto Dell'uno sull'altro E così via Però le perturbazioni gravitazionali Che io posso vedere Indirettamente In questo modo Mi permettono Di capire Non solo il raggio Dell'orbita Dell'eventuale pianeta Ma anche la massa Del pianeta Che questo è importante Dopo che ho la massa Del pianeta L'altra cosa ancora È di nuovo L'effetto Quando passa davanti Abbiamo detto Si riduce un po' La luce Però dipende Da quanto è grosso Il pianeta Geometricamente La luna Quando passa davanti Al sole Si fa delle eclipse Ecco Non è questo il caso Ovviamente Però se è più grosso E più piccolo Intercetta più luce O un po' Meno luce E allora Io ho un'indicazione Sul diametro Dell'oggetto Se ho trovato In qualche modo La massa Il diametro dell'oggetto Arriva la densità Dell'oggetto E tra l'altro Rendo la massa La gravità superficiale È vero Dipende dalla massa Ma dipende anche Da quanto è lontana La superficie Dal centro La terra La gravità che abbiamo Perché ha la massa Che ama Perché il raggio 6.300 km Se io prendessi La terra La schiacciassi A un terzo Un quarto E stessi Nulla superficie La gravità sarebbe Parecchia più intensa Quindi come vedete Bisogna Arrabattarsi Per estrarre Informazioni Storciare Informazioni E dati Pochi che abbiamo Però Ci sono parecchie cose Che uno alla fine Riesce a scoprire Riguardo a questi pianeti Quanti Ne abbiamo trovati Allora All'inizio del mese Erano 3.608 Siccome ci sono A questo punto Degli osservatori dedicati Che fanno solo quello E se ne trovano Ma di tanto se ne trovano Quindi 3.608 Oggi Saranno già qualche decina in più Tanto per dire Il primo In questa serie È stato scoperto Solo nel 92 Poi da lì in avanti Si sono scoperti Parchi altri Di questi 3.608 Circa 700 Un po' meno Sono di tipo terrestre In zona abitabile Rispetto alle loro stelle Di quelli che noi Quindi abbiamo Individuato In qualche modo In tutta la galassia Ne aspettiamo Una quarantina di miliardi L'avevamo già detto Perché noi Questa cosa qui La vediamo Sulle stelle vicine Le stelle Che è l'altro capo Della galassia Sì sì Le vediamo Come stelle Però è ben difficile Vedere questi effetti Vicine cosa vuol dire Entro qualche decina Di anni Luce da qui Anche se c'è Almeno un esempio Mi pare Per la galassia Di Androma La più grande Vicina Ce ne sono delle altre Più piccole Più vicine In cui c'è L'indicazione Di qualcosa Che più che Se è un sistema paritario Probabilmente È un sistema doppio In cui c'è Una coppia di oggetti Qui in realtà È la zona intorno a noi I nostri vicini Quelli che ci danno Informazione Qui vediamo Nel tempo L'andamento Delle scoperte Nel tempo Il 92 E qui Dove è andato Qui Ce n'era uno solo E quindi non mette niente Una rigida blu Rispetto al nero Poi qui E' sempre pochi Ogni anno Ogni anno Avete nel 2014 C'è stato Un picco Che è arrivato Il primo picco Che è arrivato Sui 600 800 In un anno Il 15 È stato Un anno di morta Il 16 Alle 1.400 Passa Adesso Siamo Eravamo qui Questo in realtà È a marzo Hanno passato Tre mesi Sono 6 Un po' Inizio La prefinata Quindi Se ne scoprono In quantità Questo è lo sfondo Adesso Veniamo Alla conferenza stampa Della NASA Di cosa hanno trovato Loro Allora Loro hanno Trovato Una stella La stella si conosceva già Si chiama Trappist Uno Strano nome Trappist Trappist Che ha scoperto Una stella Dopo Della Università Di Liegi Anche se Il telescopio Che usa Normalmente Si trova In Cile Sulle Ande Nel telescopio D'Assistia Allora Trappist Uno È una stella Nala Che è più piccola Del sole Rossa Quindi Più rossa Del sole Le dimensioni Io posso Vado un decimo Qui Vedete Il sole Quello giallo In proporzione Trappist Uno Uno Perché è il primo Con tutti questi pianeti Il trappist È quello Qui a destra Diciamo che Come massa È circa L'8% Di quello Del sole E come Diametro Ragio È circa 12% Diciamo Il decimo Del sole Stella Rossa Molto fredda Cosa vuol dire Molto fredda Temperatura superficiale 2300 gradi Che vuol dire La prevalenza è grosso Mentre il sole Temperatura superficiale 5500 gradi E Vicina Una quarantina Di anni luce La luce Ci impiega solo Quarant'anni Ad arrivare Fino a noi In direzione Dell'acquario E niente Come vi ho detto L'hanno scoperta Anni fa Questo gruppo Bellica La scoperta Poi Ha studiata E arriviamo A febbraio Quest'anno La NASA A fare questa conferenza stampa I giornali Riprendono Sette pianeti terrestri Intorno a questa stella In realtà Tre erano Già scoperti Dai Belgi Nel 2015 Già Non avevano fatto La conferenza stampa L'hanno solo pubblicato Le cose Sulle viste scientifiche Comunque sia La NASA Ha ripreso questi E ne ha aggiunti A V4 Che è notevole Avere Sette oggetti Di tipo terrestre Intorno a una sola stella Casper Una roba Un po' Così Quello sullo sfondo È il telescopio Della siglia Se non è le ande Quello che è Sullo sfondo Che cosa possiamo dire Su questi pianeti Come li hanno osservati Nei modi Che abbiamo detto Con i transiti Davanti alla stella Quindi va bene Il sistema È il grosso modo di taglio Se decima bene Questo Qui c'è una figura Di fantasia Ma che non riproduce L'idea Questi granellini Sono i pianeti Che passano Girando davanti Alla stella E quindi Tolgono un po' Di luce Noi non vediamo La macchia Sulla stella Le stelle Già si vedono Più o meno Come dei puntini luminosi Sono poche Che si vedono Come dei dischi Noi in realtà Abbiamo gli strumenti Che misurano Il flusso di radiazione Qui a destra Noi abbiamo L'andamento Della luce Quantità di luce Per tutti e sempre I pianeti Sono stati messi Questi grafici In modo tale Che il centro Avviene nello stesso momento Non è così Il pianeta gira Per i suoi ovviamente Però li hanno rispostati E voi notate una cosa Questi sono i punti misurati Che c'è un abbassamento Sensibile Non pensiate troppo Perché sotto C'è una testa altissima Quindi è una piccola Riduzione Però è netta Diciamo Rispetto ai punti E notate Che sono messi In ordine Dal primo all'ultimo Come nomi Non hanno ottenuto A sede di simpatia Sede di fantasia Gli hanno messo Delle lettere Per cui Il primo pianeta Tra questo Uno B Poi uno C Fino all'H Perché non ce l'ha Perché si intendesse In molti Che a C'è la stella E quindi Il primo pianeta E B Non è A Tra questo Uno B E il primo pianeta Più vicino E poi si allontanano Ora quindi Vedete abbastanza bene Perché man mano Che sono più lontani Il tempo di attraversamento È più lungo Sono più lenti Come abbiamo visto Per i nostri pianeti Il sistema solare Quelli più esterni Girano più lentamente I più interni Girano più lentamente Quindi Il più lontano Questo qui Tra questo Uno A Ci mette di più Sono circa Un'ora Ci mette In minuti Quello che vedete In orizzontale Il più vicino Ci mette Si ricorda Un quarto d'ora Questo mondo All'attraversare Il campo visivo Poi ripeto Non sono Sincronizzati In quel modo Non ho fatti Suoi Ma li hanno messi Insieme È un sistema Molto denso Una famiglia Compatta Tanto compatta Che Le loro orbite Sono Tutte minori Nel raggio Dell'orbito Di Mercurio Dove Il fetto al Sole Per cui Il piatta più vicino Al Sole Infuocato Lì Quasi Che il Sole Lo raggiunge Questi sono Dalla loro stella Distanze inferiore A quella di Mercurio Sono in centeli Quindi Marea Ed è Un'altra domanda Che si fa a un astronomo Dice Ma è stabile Questo sistema Perché si disturbano Gravitazionalmente L'uno con l'altro Sì Hanno trovato L'equilibrio Hanno costituito Una famiglia Ammonica Nel senso Che Si sono Assestati Su delle orbite Che sono Risonanti Cioè In sostanza Adesso Ci sono varie combinazioni Se uno Mentre uno Fa un giro L'altro Ne fa cinque interi Così via In maniera tale Che è uno schema Che si ripete regolarmente Che viene Autostabilizzato Se fossero casuali I disturbi Potrebbero Arrivare A dispellere qualcuno O montare qualcuno Sulla stella Chissà che Invece Avendo trovato Questa configurazione Con varie risonanze Tutti e sette Riescono a mantenerla Abbastanza stabile Il periodo orbitale Pianeta intorno A una stella L'anno Bene L'anno Più vicino Dura un giorno e mezzo E l'anno Più lontano Diciamo Quello meno Chiaro Diciamo Può essere Tra 15 e 20 Diciamo In media 18-19 giorni Quindi È molto veloce Di queste sette Diamenti Tre Sono Considerando L'alleggiamento Della stella Nella fascia Abitabile Cosiddetta Se c'è Dell'acqua Perché Non è detto Che c'è La molecola Il flusso Di radiazione È tale Che potrebbe Essere In corredo Stato liquido Qualche volta Sempre Che abbia Un'atmosfera Che permette Di mantenere Il vapore Un disperto Quindi tre Che sono tantissimi Tre Unica stella E bla bla Vediamo Un attimo Le proporzioni Ora Qui sotto C'è Di nuovo La parte interna È il sistema Solare Mercurio Viglio Terra E Marte Non è disegnato Il sole Che conta Il centro Quello di sopra È il sistema E Qui vedete I chiamati Dici Fino All'H Non c'è Proporzione Nelle dimensioni Tra di loro E le loro distanze Se no Sembra che Vi si tocchino Non è così Il puntino rosso È la loro stella Non è in proporzione È comunque più grossa Di loro Qui si intravede Ma credo che Doviate avere Gli occhi molto buoni Un disco Un cerchio Molto piccolo Che sarebbe La questione del sole In confronto A quello Della stellina Che dovrebbe stare Qui in sole Ora Tutto questo In realtà Sarebbe contenuto Qui Rispetto al sole Se qui Nel centro del sole E qui c'è Mercurio Tutti quei sette pianeti Riportati qui Girebbero qui Alessandro Ma non vediamo C'è tra il sole E noi non vediamo No Qui No Vediamo Ma non capiamo Cosa significa Dov'è qui Ah perché credevo Niente C'era io la freccia La vedo lì Allora Qui si intravede qualcosa Che ricorda Questo qui C'è Tutto quello Che vedete qui sopra Nel sistema solare Starebbe qui dentro Mercurio è qua Lassù Quello Riesco Di colori un po' Infausti Diciamo Che ha una dimensione Che va Da qui All'arco Da qui sopra E il sistema Delle lune di Giove Quindi La dimensione Di Giove Come su Non le lune I quattro Satelliti Medicei Perché ne ha decine Giove di satelliti Ma i quattro Che ha visto Gaglilevo I più grossi Hanno Del loro grave orbite E le loro orbite Sarebbero più o meno La più esterna Di queste dimensioni Quindi Delle dimensioni Di quella interna Più vicina Dei pianeti Del sistema Aspettino Che vi da quindi Grosso modo Un'idea Delle dimensioni relative Terrestri Terrestri Come vuol dire Terrestri Allora Di nuovo Vedete Una Successione Di schizzi C'è anche Modo di capire La superficie Che tipo Di riflettività Quindi Non proprio Il colore Ma diciamo Sì La prevalenza Dei vari Pianeti Vedete Effettivamente Come dimensioni La Terra Questa qui Chiaramente Visibile E sono Se n'è più piccoli Ce n'è uno Leggermente più grande Sono di tipo Terrestri Come massa I tre Che sono candidati Su una zona Interessante Sono questi tre Qui Hanno anche Una riflettività Superficiale Che Potrebbe far sperare Bene Infatti Che ci sia Dell'acqua Eventualmente Sopra Ci sono anche Parole numerici Di diversi Parallel Allora Questa è Quanto Oggi Si sa Da lì in poi I giornalisti Si scatenano La vita Sì No Abbiamo trovato La vita Nell'universo Abbiamo trovato Niente Abbiamo trovato Questa roba qui Che ha certi parametri No Civiltà Viene Comunque Per non sbagliare Sapete che c'è Setti Il sistema Setti È fatto di antenne In giro Per La terra Che ascolta Il cielo Segnali Alla Eventuale Ricerca Di segnali Che abbiano Una razionalità E una coerenza Tanto da poter Far pensare Di avere All'altro capo Qualche soggetto Intelligente Che li ha mandati O li ha persi Si stava parlando Tra l'altro Come anche i nostri Telefonini O ascoltavano Ovviamente Siccome le distanze Sono decine Centinaia Migliaia Di luce Non è Vuol dire Io adesso Ho capito Che stanno Telefonando Ogni telefono Perché ci sono Migliaia Ma ci sono Queste Antenne Sistema Seti Non sono Scombinati O dei cacciatori Dischi volanti Qualcuno Magari Ma Che Seriamente Esplorano Il cielo Ogni tanto Con un segnale Interessante Quei attenziali Che ci sono Questi segnali Periodici Regolari Che a volte Sono dovuti A cause naturali Le pulsa Le pulsanti Sono più regolari Degli orologi atomici Ma sono naturalissimi E sono un problema Di conservazione Dal momento angolare Questa regolarità Comunque Qualcuno Si è messo Adesso A sentire Questo sistema In particolare Fosse mai Che c'è Qualche segnale Interessante Qualche trasmissione Televisiva Da captare Qualcosa del genere Boh Da lì in poi La scienza Finisce lì Ecco Il resto Boh Chi lo sa Vita Non vita La vita Nessun sa Che cosa sia Per cui Se tanto Vi da tanto In termini probabilistici Vare quello di prima Perché qui si Tutto E da un'altra parte No Ce n'è talmente Di tante Di luoghi Con caratteristiche Simili a questo Poi sulla vita C'è da dire In un momento Noi siamo un po' Focalizzati Sui fenomeni Biotici Del resto Chi l'ha detto Deve essere Necessariamente Il ciclo del carbonio E l'acqua Ma guarda un po' Nella fantascienza Quella seria Quindi con base Scientifiche Anche su questo E' fantasia Però Uno immagina Anche la vita Dei cristalli Di silicio La chimica Del silicio Anziché del carbonio Perché no Quindi Pretendiamo anche Di essere Noi speciali Di essere unici In qualche modo Quindi Chi lo sa Però Ripeto La vita Che cos'è Non la biologia Non la biochimica Ma la vita Che cos'è Non lo sa Nessuno Sfido Chiunque A contraddirmi Su questo fatto Perché se io Costruisco Una molecola Artificiale Con caratteristiche Di una cellula Quella non è viva Punto Anche se io riesco A ricostruirla Interialmente Quindi La cosa Non è Quindi Una cosa Che non so che cos'è Non so neanche dire Quanto ce n'è Dove Se ce n'è Se non ce n'è E' un fenomeno Molto interessante Anche che siamo Un pochino Con un conflitto L'interesse A riguardo Però Da buizia scientifica Non riusciamo a dire Molte cose Certo Possiamo dire Che sono degli ambienti Che possono somigliare A quello Che qui Ospita La vita Giornalisticamente C'è un atteggiamento Molto sportivo Ti trovano qualcosa Su Marte Trovano una molecola Organica Diciamo Abbiamo trovato La traccia della vita Calma Trovate una molecola organica Te ne fabbrico In laboratorio Quante ne vuoi E se ci sono Dei laboratori Naturali Anche fuori Quindi Va bene Niente E' tutto qua Qualche citazione Libertà relative Al cielo Ed intorni Il cielo stellato Sopro di me E' un'altra cosa Questo è confuso Le stelle Sono rucchi nel cielo Da cui filtra La luce dell'infinito E' l'ultima Noi siamo figli Delle stelle Quindi la canzone Anni 70 Fini anni 70 E' un'altra cosa La parisfermia Vorrebbe che noi Fossiamo figli Delle stelle Ci sono queste specie Di sedi Chiamiamoli così Disseminati Da meteoriti Cascano su un corpo E quello giusto Esisteremo tra vita E dunque Siamo figli Delle stelle A voi la parola Qualcuno vuole fare una domanda Comincio io Visto che siamo insieme A dei pianeti Si può dire qualcosa Del decimo Chiamato decimo pianeta Che non si chiamava Nono Quello che ha Un'orbita E lì chiamava molto distante Una cosa che Sì Il decimo Il problema In cui si discutevano Perché allora Uno dei modi Che ci sono stati Per allargare La famiglia Del sistema solare La storia Ha cominciato a osservare In maniera sistematica Il cielo Però Fino a Due secoli fa La convinzione Che i pianeti Erano quelli Che si conoscevano Dall'asento Insomma Quelli che erano Soprano degli antichi E che arrivavano Fino a Saturno Sostanzialmente Però Dopo L'orientazione universale E le conservazioni Sistematiche Uno ha cominciato A Osservare Che Certe orbite Dei pianeti Risultavano Non proprio Quelle Che sarebbero State previste Da Kepler Che venivano In qualche modo Disturbate E uno dei modi Per spiegare Questi disturbi E dire C'è un altro oggetto All'esterno Quando passano vicini In questo Tira di più O poi di meno Questo disturba Le orbite Il che è vero Sulla base Di questi calcoli In effetti Sono stati individuati Urano E poi Cattuno Che in realtà Poi sono stati scoperti Anche dentro Delle lastre fotografiche Cioè andando Poi guardando C'è un mare Di puntolino bianco E comunque Seguendo nel tempo Si vede Che c'erano alcuni Un puntolino bianco Che non era sempre Nella stessa posizione Il modo Per trovare i pianeti In greco Planetes Vuol dire che va a spasso Più o meno Che ci sono Delle stelle vaganti E allora Anche quello Però Questi sono grossi Si vedono Mentre L'Urano Non si Non si Se lo sai Lo vedi Ma se non lo sai Allora Il metodo è stato Quello di calcolare Le perturbazioni E dedurre La possibile presenza Di concetto Poi dovrai cercarlo Come vedi dov'è Punti pesco per lì Guarda un po' lo trovo In questo modo Si è arrivati Fino al nono Plutone Plutone anche qui L'idea Di nuovo Quello delle perturbazioni E poi Insomma Anche in questo caso Andati a cercarlo L'hanno trovato Poi però Anche Plutone Aveva un'ordica Che si comportava Non esattamente Però Il canino Lo ripeti Ci sarà un altro pianeta esterno Questa idea Del decimo pianeta Girato per un po' Non si trovava Poi però Si sono accorti Che c'era A quella data Siamo negli anni 30 Una stima Non corretta Delle masse Di Urano a Vetturo Una volta corrette Le masse Di Urano a Vetturo Le ho alloghi Plutone Era Quella Caffetta Quindi Il decimo pianeta Non c'era più bisogno Però la storia Non è proprio Del tutto finita Lì Nel senso che Ci sono cose Che vanno e vengono Per esempio C'è stata anche La leggenda Del pianeta Che non si vede Perché dietro il sole Che gira Come giriamo noi Questa L'antiterra Gravitazionalmente Sarebbe possibile Dovrebbe però Essere sulla nostra orbita Su un'altra orbita Gira una velocità diversa Prima o poi Sbucca Potrebbe anche Eserci l'antiterra E' vero che Bisogna vedere Quanto dura La stabilità Di una collina di genere Dopodiché Però va bene Per la fantascienza Va benissimo Per la Scientificamente Non è impossibile Ripeto Però non hai Alimenti particolari Su questa storia Delle perturbazioni Si è anche A lungo parlato Di un ulteriore pianeta Non da fuori Ma in dentro Sotto Mercurio Dice il sole C'è la luce del sole Non riesco a vedere No? Se vado più vicino Però anche lì Potrebbe essere Responsabile Delle perturbazioni Su Mercurio Adesso è stato escluso Anche perché Poi si trova La presenza Di satelliti Satelliti hanno Il loro ruolo Anche loro Fa modulare Un po' Le varie orbite Quindi la storia E' un pochino Questa Quella dei pianeti Extra Quelli conosciuti Corpi Che ruotano Attorno al sole E tu prima Ce n'è un sacco A parte questi Quelli più grossi A fascia di asteroidi Ci sono Nei planetoidi Al di là di Plutone Qualcuno rosso Quasi come Plutone Più lontani Al margine Al margine della fascia Di Orte Come è detta Che è quella Dove stanno le conete Ma non ci sono Solo le conete Cioè i corpi Fatti probabilmente Di ghiaccio C'è un sacco di ghiaccio Ma anche i corpi C'è molti In qualche modo Qualcuno ha un nome Non tutti Dicerebbe che parlare Un nome Ma non ho mai capito Perché la terra Non volga Sempre la stessa faccia Il sole Come fa la luna Con la terra E tra un po' di miliardi Di anni Finirà così Nel senso che Quando si sono formati Questi corpi Il momento angolare La velocità con cui girano Eccetera Dipende dalle condizioni locali Gli oggetti che cascano dentro Non sono esattamente radiali Quindi la corpa che si forma Gira su se stessa In presenza di un altro corpo Maggiore In realtà C'è un'interazione Non solo nel senso Che questo gira intorno all'altro Tutti due Torniamo nel centro Ma anche nel fatto Che il corpo maggiore Induce delle maree Anche solide Deformazioni periodiche Nel corpo minore Queste cose Modificano Quello che si chiama Il movimento di inerzia Dell'oggetto E tendono anche A dissipare un po' di energia Cioè E' solido Io deformo poco Ma ogni volta che faccio così E' un po' di energia Che va a finire Dentro la pianeta Si scappia Come i freni Se io cerco di freno qualcosa Io trasferisco dell'energia Che si manifesta Sotto forma di calore Allora anche in un corpo Che vuole intorno all'altro Una vuota Deve infatti fuori Più veloce La deformazione Indotta dal corpo maggiore Tende in qualche misura A fare un po' da freno Generando calore All'interno di quel corpo Il risultato è che Il corpo Che gira più veloce Quello più piccolo Rallenta progressivamente Il secondo di adesso È più lungo Del secondo Dell'inizio Del secolo Vuodila E anche del secolo precedente Ha maggior ragione Tempo molto lungo Il risultato finale Il risultato finale Qual è quello che è già successo Alla luna Rispetto alla terra Alla luna all'inizio Poteva benissimo Vero sul momento Però A furia di fare Ha dissipato Tutto L'energia Che la portava A cambiare faccia E quindi A deformarsi Periodicamente Per cui La terra Un effetto Ce l'ha Ma è sempre Nella stessa posizione Non fa da freno Quasi Perché la luna Ha dei movimenti Di vibrazione Fa leggermente così Rispetto a noi Quindi il meccanismo È sostanzialmente quello Ma cosa ha provocato Sì ma Cosa ha provocato Il fatto che Ci sia Che tutti girino Tutte le stelle Tutto Intuitivamente Diciamo così Io ho una tassa Per qualche motivo Un po' più grossa E ho dei corpi intorno Questi attivano E questi altri Cadono su quello Più grosso No? In qualche misura Però Anche loro Si stavano muovendo in giro In questa nuova iniziale Qualcuno Si stava muovendo per così Casca radialmente Vabbè Ma è rarissimo La maggior parte Sono un po' di sbieco Allora Vengo catturato Facendo questo lavoro qui E mi incollo Ma mi porto con me Il momento agolare E quando ce n'è già un po' Quello che arriva dopo Aumenta 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 Quindi diciamo Quando si forma L'aggregato giovane È normale che Giri Chiudo sto in fretta È un momento agolare Grande Se non ci fossero Di perturbazioni Quella roba Lì si conserverebbe In questa roba Il momento agolare È una delle quantità Come l'energia Che si conservano Se non che però C'è l'effetto Delle masse esterne Che fa quel freno Che dicevo prima È come se fosse un piccolo freno E quindi Questo momento agolare Viene perso Trasformato il camore E tutto gira Dalle masse E giù Il motivo di fondo Se vogliamo È quello Non c'è nulla Che Primo non ha senso dire C'è qualcosa di fermo Ma questo L'aggregato Einstein È tutto relativo Io sono fermo E un altro si muore E lui dice Che lui è fermo Che io mi muovo Ecco Ma questo va bene È più facile Le rotazioni Sono di assolute Questa è una cosa Notevole No? Non è questione Di punti di vista Ci sono fenomeni fisici Che differenziano Una rotazione dall'altra Mentre un vuoto traslatorio Da chi non lo fa Non è indistinguibile Io non posso dire in assunto Mi sto muovendo Sto fermo In termini di traslazione Lo faccio rispetto a un altro Invece le rotazioni sì C'è la forza centrifuga Se vogliamo Tutto vuota Perché quando io Aggrego da più nuclei Comunque Le cose È inevitabile Che si inneschino Questi meccanismi Che portano A mantenere la rotazione Ma sono domande infantili Però Vabbè Ma siamo Molto più infantili Che il suo Potrebbe fare La mia nipotina Insomma Comunque Le ne faccio due Ma perché L'universo è così grande Perché l'ha fatto Così grande L'universo Prima domanda Seconda domanda E ugualmente Questa è forse Di un'altra persona Diceva Se vi sono altre Signità intelligenti Perché non avevamo Mettere cercato Di contattarci Questa non l'aveva fatta Fine Non l'aveva fatta Per sentire Tu la fermi Fermi la fatta Fermi Non sa qual è la risposta Perché sono Invaligenti No diciamo Per quanto riguarda La prima E cosa vuol dire Grande o piccolo Prima osservazione L'universo è tutto ciò A livello materiale Tutto ciò che c'è E tutto ciò che c'è Tutto ciò che c'è Allora abbiamo due opzioni È infinito Che è la cosa più Come dire Perché dovrebbe essere finito Anche perché Cosa vuol dire Un universo finito Finisce No cosa vuol dire Infinito direi Io No infinito È stato È stato Era chiavo E poi si hanno Scoperto che le cose Non erano così semplici Fino ai tempi di Einstein Cioè io Lasciamo qui Una bandierina Parto E trovo sempre Stelle 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 Non tornerò mai più E trovo sempre Stelle Stelle Infinito Finito vuol dire C'è un voto La rotiera La domanda subito È come si è dopo la rotiera Se l'universo è tutto È tutto Compreso lo spazio Allora L'universo può essere Finito Ma illimitato Allora L'esempio solito La sfera Scopisce la sfera No È finito Però non è che c'è un confine Se io sono appiccicato Alla sfera Al giro Torno Tutto di partenza Questo sì Allora Una versione Del modello Di un universo È finito E allora necessariamente Deve essere come la sfera Anche se Lo spazio è in tre dimensioni Mettiamoci il tempo Addirittura i quattro Quindi Torno Io parto Sempre dritto così E Tra n miliardi di anni Ritorno qua Chissà se c'è qualcuno Che è in grado Di ricordarsi Che ero partito E comunque Allora In quel caso lì L'universo può essere Finito Delle tre versioni Classiche Della teoria Di Einstein Una è l'universo Limitato Finito E il curvo Chiamiamolo così In tre dimensioni Allo spazio L'altro è L'universo Che invece È in espansione Ed è Illimitato E infinito Poi c'è una versione Che è il passaggio Da l'uno all'altro Che è quella E qui ci sono I ragionamenti di geometria Che uno dovrebbe fare La geometria Con cui risolviamo Le posizioni Delle galassie Le più remote Se guardo Uncora più là Nel tempo C'è una zona Dove è tutta luminosa Che è fatta Di una radiazione Che allora Era a tre mila gradi Adesso Ma vediamo Che avvia Delle spazioni A due gradi E sette O giù di lì E se io guardo là E vedo la geometria Lì E scopro Che sostanzialmente È la geometria Di Euclide Che vedo Dico attenti Ma questo avviene A palle Della attività generale Geometria Limaniane In chissà che Curvatura Lo spazio Lo spazio Dalle osservazioni Risulta piatto Ora Lo spazio piatto Corrisponde proprio Alla posizione Limite Tra Un universo chiuso E l'universo aperto Che proprio Dice proprio quella A proposito di cose Ma perché È proprio quella Sembra proprio così Però in questo caso È comunque infinito Però quello che noi vediamo Dice L'infinito È la risposta Secondo me Non si sono fatti E caspita Non sono ancora Arrivati i segnali No? Chissà quando li hanno mandati E siccome In ogni caso Io ho Il big bang L'inizio Non è da dire Perché se fosse Infinito Nello spazio del tempo Convenzione Che c'era Qui da Einstein Per lontani che fossero Hanno avuto tutto il tempo Di arrivare Non c'è problema No? Ma se io invece Ho un inizio E beh Quello che è Più di 13 miliardi E 4,7 milioni di anni E non può essere arrivato Nello spazio Può esserci Una roba più lontana Ma la luce Che è partita di là Da quando Qualcuno ha acceso la luce Non è ancora arrivata Non può arrivare Quello che noi studiamo È un universo visibile Cioè quello che arriva Fino a 13 miliardi E Siamo 14 miliardi Che non vuol dire Che non c'è niente Di più lontano Lì Siccome Non abbiamo nessun modo Per definizione Che da questo si dietro Ci si può scatenare Di tutto E per il contrario Di tutto Cambiare le leggi fisiche La fantascezza Si scatena Ma anche Non solo la fantascezza Anche certe branche Scientifiche Logicamente compatte Che vagliano ipotesi Vare Che non potranno mai Essere legate Questo per quanto L'infinito No Grande o piccolo La domanda diventa Per avere un termine Di paragonia Bisogna che fosse chiuso Oppure potrei fare Riferimento All'universo visibile 14 miliardi Perché noi siamo così piccoli Rispetto a quello Bella domanda Non erano 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 Se mai la domanda È un altro modo Di dire Ma che spreco Abbiamo visto Centinaia di miliardi Di galassie Centinaia di miliardi Di stelle Sarebbe uno spreco Ci fossero solo noi Allora Sempre andando Alla fantascienza Più seria Uno potrebbe dire I casi sono O effettivamente Beh c'è un mare di gente In giro Per l'universo Gente Intendiamoci Però altre Possibilità Di giochi Universo Oppure Tutto un gioco Di specchi Dopotutto Leibniz Mi teneva Che noi fossimo Le monadi Allora Io ho un meccanismo In cui Non è mica vero C'è questa roba in giro Nei baraccone Delle fiere A volte Questi scherzi Li fanno Con un gioco Di specchi Io sono seduto lì Intorno Sono una stanzetta Ma Giocando Opportunamente Ho la sensazione Di essere Un palazzo Enorme C'è un meccanismo Che porta A avere questa Illusione Che è quello Degli ologrammi C'è una parte Della fisica Di cosmologia Olografica In cui In qualche misura Si Interpreta Quello che si vede Come una sorta Di ologramma Quindi Bidimensionale Sullo sfondo Del cielo Che dà La sensazione Di profondità Quindi Però Santo cielo Almeno Io il sistema Solare Sembra che Gli specchi Non ci siano E anche Di impararci Se sono un po' Più in là Il problema È simile Perché comunque C'è un sacco Di spazi Perché vai In questo spazio Chi lo sa Volevo Volevo Avanzarmi al discorso Per dire Che Le dimensioni Umane In effetti Sono Una Posizione centrale Fra Le dimensioni All'universo Le dimensioni Delle particelle atomiche No Quindi Li deve stare attenti Perché se no Viene L'uomo Che misura Tutte le cose Che Per i greci No 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 Ma come No 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 Perché in realtà Le nostre Inversi Pagliari Le dimensioni Fisiche Sono legati Al pianeta Su cui siamo L'animale Più grosso Della storia Degli animali E tuttora vivente La balanota Azzurra Più grande Dei dinosauri C'è un limite Superiore Che deriva Dalla gravità E Dalla controllabilità Del sistema La gravità La balanota Già sta nell'acqua I grandi dinosauri Oltre un certo limite E ti ci vogliono Delle ossa Poi come le muovi Le giunzioni Dei poterti muovere Anche se la testolina È così Però questa massa Tiene terrificante Oltre un certo limite Non è il limite No Per motivi di gravità E poi L'altro problema È che Noi siamo Organismi Noi siamo colonie Plumi Cellulari Allora Un organismo Quadra Se può essere controllato In modo unitario Da una centrale Unica Se no Si dissolve Si dissocia La tela pesca Ora Questo è un discorso Un pochino più sottile Un sistema complesso Ha dei limiti Alla quantità Di canali Che può controllare I calcolatori Insegnano Insomma Quindi anche sistemi Neuronali Che hanno 100 miliardi Di neuroni Però hanno Dei limiti Oltre un certo limite Il sistema Deve frammentarsi Altrimenti Non è più governabile Quindi abbiamo Dei limiti Che sono legati Uno Alla complessità Che è universale Due Alla pianeta Se noi Ci fossimo sviluppati Su un pianeta Con l'acqua Lì Da 20 giorni Non andava bene C'era che 20 giorni Forse qua Ma con una gravità superficiale Dieci volte quella della Terra Probabilmente saremmo Molto più piccoli Pur avendo L'acqua E altre cose Molto più piccoli Quello che siamo qui Se ci fossimo sviluppati Su un pianeta A gravità più bassa Sempre con l'acqua E tutto il resto Potremmo essere più grandi Fisicamente Il controllo C'è lo stesso Però se andiamo per molecole Non è un organismo Monomolecolare Se andiamo per molecole C'è un limite Alla possibilità Dalla parte Di una Dalla centrale C'è Bello Qualche è Di tenere sotto controllo La periferia Oltre il quale Quindi diciamo Le nostre dimensioni fisiche Sono Delegate da questo Quindi il fatto di intermedio Tra lato Sì È vero E non è vero Nel senso che Intermedio tra la dimensione atomica La dimensione cosmica Anche la luna Intermedio tra A rigolo di termini No? Come dimensioni No? Quindi Intermedio letteralmente Nel senso che Siamo fatti di atomi E siamo parte Di questo Enorme cielo Fatto di galassie Per motivi fisici Sono Il tipo Perché torino Posso chiedere Questa Scusate Prima lei ha parlato Della vita Che dice che Non si riesce a costruire Questo mistero Ovviamente potrebbero esserci Due ipotesi Ma una Oddio Ha dato Qualche modo Il primo L'input Perché Oppure Non abbiamo ancora scoperto Ma lo scopriremo Volevo A livello Di scienziati C'è una prevalenza Di questa ipotesi Oppure Comunque Ci potrebbe essere Ancora una terza ipotesi Non lo so Ma c'è ampia C'è ampia scelta Diciamo che Quando ci avviciniamo A questo Argomento Le scelte Diventano Ideologiche Filosofiche Prevalenza Di preferenze La dimensione scientifica Può rimanere Ma Fino a un certo punto Quindi Si va un po' Per gradimenti Allora Diciamo che Una versione Non l'abbiamo ancora capito E lo bene Si cerca Ci sono tante cose Che abbiamo capito Anzi Una cosa che si può vedere Volevo Anche statisticamente Più capiamo Cioè Più sappiamo Che apriamo Con le cosmologie così Letteralmente Materia scultura Energia oscura Tutto oscura Per quanto riguarda la vita Non voglio dire Volevo Si capirà Ci sono alcuni elementi Significativi Nell'esperienza Che noi abbiamo Qui Sul nostro pianeta Che oggettivamente Mettiamo La vita si propaga Non si crea mai Cioè Se ci fosse un meccanismo naturale Che nelle condizioni Del pianeta terna Porta A compagliare la vita Perché non compare Cioè va bene Che si propaghi Quella che c'è Ma ogni tanto Puccherebbe Dai sassi O dall'acqua Qualcosa Perché no Si propaga sempre solo Una volta Una volta non c'era la vita Sulla terra Certo Sono 3 miliardi scarsi Di anni Qualcosa è successo 3 miliardi di anni fa Certo Allora Uno può dire È una proprietà Questa è una versione Che è un po' A metà Tra lo scientifico E che ne so Linguistico Di intorno Però È una proprietà Della materia È questo Cioè io sono più vivo Questo è meno vivo Per cui Quando ci sono le condizioni In realtà Da lì può evolvere Però Si scomprova un po' Col fatto che 3 miliardi di anni fa È successo qualcosa Perché non è più successo Cioè Non è che Si è cambiato il pianeta Trastica Sì Era abbastanza diverso 3 miliardi di anni fa Rispetto ad adesso Però la massa Era quella Il sole Era un po' più caldo Sì Però insomma In maniera drastica Ad adesso C'era più A livello carbonico Nell'atmosfera Sono tutti i fenomeni Biochimici questi Che uno più o meno conosce Cosa c'è di drastica Poi potrei riprodurli Infatti c'è qualcuno Che ci prova Adesso ogni tanto Ogni tanto Ci sono queste cose Della cellula artificiale Quelli che sono usciti A fare la cellula Articale Dice vivente C'è stato un caso In realtà In un nucleo Di una cellula Vera Intorno alla quale Hanno costruito Il resto Allora L'oggetto che viene fuori È vivo Ma io ho usato Un pezzo di qualcosa Che era vivo Proprio Completamente Rassembrato Artificiale Non è che io non possa Da questa chimica Mettere gli amminoacidi Blablabla Però non è vivo Non si riproduce Poi è vero Che io Ho degli algoritmi Di calcolatore Che riescono a riprodursi Cioè metto in piedi Però è tutto Un po' così Diciamo Un po' forzato Quando io voglio vedere una cosa La vedo Non mi chiuso la vecchia storia È molto più solente Quando io non voglio vedere una cosa Questo è molto più diffuso Allora è questo che io dico Quando dico che nessuno sa che cosa sia la vita Non sto dicendo Quindi non sto dicendo Creata Questa è un'altra storia ancora Però Oggettivamente Non si può ridurre La vita Alla biochimica Alla biofisica Alla biochimica Alla biofisica Io riesco A controllarle Ma Le caratteristiche Li attraverisco alla vita Non è semplicemente Di avere una serie di processi Biochimici Biofisici C'è qualcos'altro Se vediamo quelle funzioni superiori Diventa un po' più complicata Poi il problema ancora della coscienza Allora Se ci sono quelle apparecchiature Che ti aspettano dei segnali Volevrei se c'è Creatura Anche intelligenti C'è un'idea Di chi sta Ascolta del cielo Ci sono delle cose interessantissime Nel punto di vista teologico Mettiamo che siamo in tanti E noi abbiamo avuto La Bibbia La storia della creazione La storia della salvezza Gli altri che si trovano Sei in galassi più in là Hanno avuto anche loro La caduta Hanno avuto bisogno Di organizzioni Quando li incontriamo Di via di aria È un bel problema È un bel problema D'altra parte Essere soli Veramente è uno spreco Così Santo Scherobar Grazie Ma Troppo grazie Sfondo si sfoltire Ma Era no